è arrivata la mia prima degusta box ciao a tutti finalmente dopo dieci anni che è uscita mi sono decisa ordinare la mia prima degusta box e sono emozionata come una bambina la prima volta che balla silo apriamola insieme il cameraman cosa ci sarà cosa ci sarà bari del piano che leggeremo più tardi wow di super croissant super sfogliato con 24 di limitazione naturale ed è una novità che potremmo assaggiare noi due al video assaggi ragazzi poi 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 wow grissigna la barbabietola ragazzi questi non sono una novità però per me sì roberto roberto una buona marca wow questi l'ho visto al supermercato ma ancora non li ho provati quindi ottimo spaghettoni perfetto fai 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 wow questo domani è colazione allora sarebbe una bivanda di avena al cacao senza zucchero ottimo vediamo a un un rapido un rapido un rapido lo può bere anche baby sì allora delle caramelline ricola ricola poi 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 abbiamo ben due spezie una cannella e uno zennaro sempre utili sempre utili poi altri poi 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 dei boero questi sono 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 al cioccolato fondente crema di whisky poi 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 cosa abbiamo qui salsa al formaggio salsa non si abbassa questa piacerà a te sicuramente ideale con i nachos peccato per gli affinirsi poi come ultimo come ultimo abbiamo abbiamo una bella salsa di ciliegino di ciliegino quindi ottimo questo serve sempre in casa quindi perfetto quindi questa box abbiamo trovato uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 prodotti ragazzi 12 prodotti direi che è andata bene direi questa box di novembre perché questa è di novembre anche se mi è arrivata il primo dicembre ma l'ho ordinata da dio direi direi che sono tutti ci vediamo al prossimo video grazie grazie grazie